Lotto numero 28, sempre Francesco Tabusso, Sabri a un picnic, acquarello su casa, le dimensioni sono 36,5 x 55,5, l'opera è firmata e intitolata in basso a sinistra, autentica dell'artista su fotografia, viene messa in gara a 800 euro per offerta ricevuta al banco, 800 euro al banco, 8,50 in sala, cosa mi dice il telefono? 8,50 in sala, 900 telefono, 900 euro per la prima, 900 euro per la seconda, se non vedo altre offerte aggiudico al telefono, 9,50 il web, è intervenuto il web, 9,50, 1000, 1000 il telefono, 1000 euro per la prima, 1000 euro per la seconda, 1100 il web, 1100 per la prima, 1100 per la seconda, Patrick cosa mi dice? 1200 euro per la prima, 1200 euro per la seconda, se sta bene a tutti aggiudico a 1200 euro al telefono, 1200 euro per la prima, per la seconda, 123 il Patrick.